Let's go bitches e benvenuti a questo nuovo gameplay, anzi a questa nuova DNA Bomb che ho fatto su PS4 Come state vedendo mi sono rimesso un pochino a fare quelle che erano le serie che trattavo sul vecchio canale Power TV nel periodo di Ghost che tra l'altro è lo stesso canale su cui state vedendo ora questo video E volevo parlarvi di un po' di cose mentre siete qui Allora per prima cosa volevo parlarvi di un evento che sto facendo assieme a Velox e Rampage cioè il 9 agosto faremo una riunione qui a Roma in particolare a Piramide alle 11 del mattino in cui ci incontreremo tutti e tre assieme a voi che siete i nostri supporter per fare qualche attività assieme e registrare un video tutti assieme per i nostri canali Quindi io spero che voi verrete il 9 agosto a Piramide, la stazione Vi daremo più informazioni ovviamente sulle nostre pagine Facebook, non vi preoccupate di questo Non ho mai fatto una fan reunion, quindi è una cosa molto divertente da fare secondo me ed è pure un modo per rimanere in contatto con voi che comunque vederci dal vivo, parlare, potete fare domande dal vivo che è un'altra cosa poi vedere comunque chi seguite dal vivo perché molte volte non c'è la possibilità di stare così tanto in contatto anche se abbiamo i social media eccetera eccetera Oltre a questo io voglio parlarvi di un'altra cosa che sono quelli che sono i nuovi video del canale e anche di una novità abbastanza importante, anzi è la cosa di cui voglio parlare subito ora Per prima cosa come avete letto su Twitter ho scritto Red Bull Partnership Inbound Sì praticamente sto per entrare in collaborazione con Red Bull e assieme faremo una serie di video sulla beta di Black Ops 3 Questi video saranno scanditi settimanalmente o bisettimanalmente, non lo so ancora Quello lo dobbiamo ancora vedere Saranno dei video incentrati sulle meccaniche di Call of Duty Alcuni video li avete forse già visti ma saranno ovviamente rifatti bene eccetera eccetera Più allenamenti, in questo caso ci saranno vari personaggi e varie persone che mi aiuteranno in questo percorso Sarà una serie di 10 video che verrà fatta non sul mio canale ma sul canale della Red Bull Quindi già posso introdurre questo Oltre a questo i progetti che abbiamo con la Red Bull è di cercare di far entrare la Red Bull nell'esport italiano Come sapete siamo veramente tanto indietro rispetto agli americani, agli europei Ci svegliamo sempre tardi Proprio ieri la Red Bull mi aveva detto di fare un progetto per Destiny In cui volevano praticamente fare la stessa cosa che è stata fatta in America per le lattine di Red Bull con la faccia di Flamesword Però ovviamente rifare questa cosa per Destiny qui in Italia Il problema è uno, mancano 10 giorni all'uscita e quindi non sanno se fare questa cosa o no Bisognerebbe vedere tanto interesse da parte di chi le comprerà queste Red Bull Nell'avere la faccia di un giocatore famoso, in questo caso vi sto parlando della mia Quindi non sono sicuri di questo pure perché 10 giorni di lavoro bisogna veramente premere tantissimo sull'acceleratore E rischiare di fare le cose sbagliate Se c'è tanto interesse, ovviamente, ma proprio tanto si parla di migliaia Ovviamente loro lavoreranno su questa cosa Se no ovviamente andremo avanti con i progetti che abbiamo assieme con la Red Bull Il fatto è che dobbiamo cercare di alimentare queste cose che si stanno buttando nello scenario italiano Come ad esempio MLG, ora sto facendo streaming su MLG E dobbiamo essere sempre di più ogni giorno sui vari giochi come Destiny e Call of Duty Che sono quelli che streamo principalmente Ma perché questo? Perché tanta gente? Perché ovviamente più siamo, più l'interesse di questi nomi ci sarà verso l'Italia E le persone che ci sono in Italia, non solo verso di me Io ho la possibilità di creare un trampolino di lancio per l'oscena italiana delle sport Che anno dopo anno sta sempre più regredendo Come avete già visto non ci sono più sponsor in Italia Gli eventi sono pochissimi Ma anche la community ha cambiato tantissimo Quando giocavo io la community era molto competitiva Per essere al top dovevi allenarti dovevi avere la squadra giusta Ora invece sembra che quasi chiunque riesca a competere ad alti livelli Con senza il minimo sforzo Con il minimo sforzo anzi Quindi io spero che grazie a voi I video che farò su Red Bull e gli streaming che sto intraprendendo su MLG.tv Voi mi aiuterete a crescere, a far diventare l'Italia A cercare di farla diventare un paese che si interessa alle sport come all'estero Però c'è bisogno di questo È difficile, non ha senso continuare a sperare che succeda il miracolo Bisogna perdere tempo Se si può dire, ma anche se non è una perdita di tempo Bisogna fare degli sforzi È quello che sto facendo io con gli streaming su MLG Cerco sempre di portare qualcosa di nuovo e divertente Comunque, oltre a questo vi voglio parlare Al sottofondo state vedendo la DNA Io vi avevo chiesto se volevate vedere le classi overpower Per fare comunque ottime killstreak in pubblica O comunque cercare di fare le DNA Quindi se a voi interessa questa cosa Io ho già pubblicato due DNA Ora con questa qui siamo alla terza E potrei fare dei video ora In cui mostri praticamente le classi che ho usato in quei video E vi spieghi perché ho usato quelle classi Come le ho usate, che cosa ci ho messo E come giocare con quelle classi Perché come vedete ogni gameplay è differente dall'altro Quindi, bitches Io spero vi sia piaciuto questo commentary Che vi siate divertiti ovviamente a vedere questo gameplay E spero tutti di vedervi il 9 agosto A questa fun reunion che abbiamo organizzato con Rampage Per il resto qualche novità che voglio dirvi è che Ieri mi è capitato di giocare il torneo di EGL E mi sono sentito veramente Non so come dire Mi sono sentito un pochino disagiato Non so come si può dire qual è la parola giusta Ma mi sono sentito un pochino abbattuto Dal fatto che ho giocato con persone che giocano da mesi A Call of Duty E la loro conoscenza del gioco È proprio basilare Ma questo non sto dicendo che loro sono scarsi Sto dicendo che è il problema dell'Italia Il problema dell'Italia è che non riusciamo A imparare a giocare a Call of Duty Non è che si può imparare solo guardando Solo avendo persone più forti di te che ti insegnino A volte devi inventarti tu il modo di giocare Devi inventare tu il modo di diventare più forte Di allenarti Non devi sempre contare sugli altri giocatori che ti insegnino Se tu perdi sempre postazione Non puoi dire vabbè giochiamo, 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 giochiamo No, è il contrario Tu in postazione devi capire perché perdi Provare nuove strategie Provare nuove tattiche Provare nuovi setup Perché se continui a giocare in quel modo non cambierà niente Anzi ti fossilizzerai su quelle cose E finirei per perdere la ripetizione E solamente a roderti l'anima per questa cosa Proprio a ucciderti Perché non capisci alla fine Per quale motivo stai perdendo Perché perdi alla fine il senso di giocare competitivo Il senso di giocare competitivo è Vinci, ok, va tutto bene Perdi vuol dire che devi lavorare sul Perché hai perso E come fare per migliorare Non funziona sempre Devo cambiare player Devo cambiare ruolo Funziona anche che magari ci sono piccole cose Che sbaglia tutto il team Non solo il giocatore singolo La conoscenza con Italia che abbiamo di Call of Duty È veramente bassa Un tempo Fino quasi a Black Ops 2 Eravamo in pari con gli europei Poi questa cosa è andata a perdere Molti dei grandi giocatori sono andati via Gli stessi Pene Panino Doll e molti altri che giocavano a quell'epoca Sono andati Razor, Benji Eccetera eccetera Hanno smesso di giocare E quindi siamo arrivati al punto che Non ci sono più giocatori che giocano per migliorare Per la gloria Per avere il proprio team al top Ma abbiamo solamente una community di gente Che flamma, crea casino e gioca Perché per loro è un hobby Per me non è un hobby Io sto cercando di far diventare questo lavoro Avete visto da quando sono uscito dai Rapid E con i Fabe mi sono fermato Mi sono focalizzato ora sulla mia immagine E sto apprendendo tantissime collaborazioni con molte persone Sto praticamente aumentando quella che è la mia popolarità Ma pure a livello internazionale Perché sto cercando in tutti i modi Di fare in modo che chi è all'estero guardi all'Italia E ci sia la possibilità di investire soldi Perché al momento non ci sono soldi che girano nell'esport italiano La situazione è molto critica Spero di riuscirci Come vi ho detto mi serve tutto il vostro aiuto Perché non posso farlo da solo Io posso essere il mezzo Non posso essere la mente Ma servono le braccia Voi siete le braccia E contano più le braccia della mente Perché la mente È quello che magari può fare qualcosa Ma senza le braccia non va da nessuna parte Quindi spero che Voi mi aiutiate in questo percorso E riusciremo a portare di nuovo Call of Duty Ad essere visto come era un tempo A livelli comunque abbastanza alti Perché le cose stanno andando sempre più male Quindi Butchers Io spero parteciperete in questi giorni Agli streaming su Destiny e Call of Duty Io vi saluto Vi lascio a questo gameplay Fatemi sapere se volete vedere le classi overpower E se ovviamente volete che continui la serie Su come imparare gli spawn su Warpoint Io vi saluto Bitches Sono il vostro power Let's go Bitches Grazie a tutti Grazie a tutti